Soldi pubblici, software pubblico. Cioè, se il software è pagato con i soldi pubblici dovrebbe essere pubblico. E non è solo una filosofia, ma in Svizzera è una legge. L'Elvezia infatti ha approvato una norma rivoluzionaria, davvero in tutti i sensi, che obbliga tutti i software realizzati nella pubblica amministrazione con soldi pubblici ad essere rilasciati obbligatoriamente come open source. Cosa significa? Quali potrebbero essere le conseguenze in altri paesi? Come funziona invece in Italia? Ne parliamo oggi, dai. Io sono Matteo Flora e questa è una puntata estiva di Ciao Internet. Ciao Internet. Fermi tutti intanto che ascoltate il mio vocione. Like e un cuoricino e magari un iscriviti al canale sono fondamentali. Mentre state qua ad ascoltarmi fatti iscrivi al canale e via, dai. Oggi parliamo di una vera rivoluzione. Non è, so che è un termine abusato, ma qui lo è davvero. È arrivata alla Svizzera e potrebbe cambiare il volto della pubblica amministrazione non solo in Svizzera, ma in tutta Europa o nel mondo. Perché? Partiamo dalla fine e ritorniamo all'inizio. La fine è. La Svizzera ha recentemente approvato una nuova legge che si chiama Legge federale per l'uso di mezzi elettronici per la realizzazione di task governativi, di cose, MBag, comunque. E dice delle cose carine. Cioè, obbliga ogni ufficio pubblico a pubblicare il codice pagato con i soldi pubblici sorgente online. E non solo. Il codice deve essere reso disponibile con licenza open source. Wow. Adesso ne parliamo bene, ma è davvero una rivoluzione. Da dove parte? Parte da lontano. Non mi ricordo se ne abbiamo parlato o no, forse in una live. Tutto è iniziato nel 2011, quando la Corte Suprema federale svizzera, ha pubblicato con licenza open source il codice sorgente di Open Justitia, Open Giustizia. Un'applicazione, la applicazione, sviluppata internamente e utilizzata per la gestione delle attività giudiziarie. Lo ha fatto perché? Perché in una visione di totale trasparenza, quale posto migliore per iniziare era proprio la giustizia. E la trasparenza si ottiene anche tramite la trasparenza dei processi. Questa mossa ha fatto incazzare come delle vipere Web Law, una software house, in particolare quella software house che ha sviluppato quel codice e che ne rivendicava la proprietà del codice. Anni e anni di battaglie legali, di dibattiti, eccetera, la nuova legge arriva e consacra il principio. Software pubblico deve essere pubblico. Allora, cosa prevede un po' più di preciso questa legge? In pratica, tutte le amministrazioni devono rilasciare in modo totalmente trasparente il codice sorgente dell'applicazione e degli strumenti software sviluppati internamente o commissionati a sviluppatori esterni mediante appalto pubblico. Un paio di eccezioni, una riguarda il software che possono avere implicazioni di sicurezza, c'era comunque da aspettarselo ovviamente, e i software in licenza inteso come non sviluppati, cioè se prendo in licenza un software, se prendo Photoshop o Office, non l'ho sviluppato, ma tutto quello che sviluppo internamente deve essere rilasciato in open source. Quindi significa che se una software house vuole lavorare con l'amministrazione pubblica, deve accettare il fatto che il suo lavoro sarà distribuito come open source. C'è un'altra cosa carina poi, l'articolo 9, non mi ricordo se è il 9 o il 10, credo il 9, che dice che dà la possibilità praticamente agli enti pubblici di offrire servizi relativi a servizi aggiuntivi, di supporto, integrazione o sicurezza. In altre parole, l'ente, purché sia in linea con i compliti pubblici, ok, e offerti a un compenso che sia il costo, può fare assistenza, sviluppo, integrazione di quei prodotti che rilascia in open source, facendo da manutentore in realtà. Le conseguenze, come potete immaginare, sono tante, di vasta, di sterminata portata. Innanzitutto, favorisce una maggiore trasparenza, ok? Anzi, è, credo, la definizione di radical transparency, una trasparenza radicale. Una trasparenza che è necessaria e che l'open source è forse l'unica cosa che autorizza. La possibilità di fare scrutinio su algoritmi, su sicurezza dei sistemi, eccetera, da parte di chiunque, visto che comunque i software sono stati sviluppati con dei soldi che arrivano dalla comunità. Ovviamente può sviluppare una cosa del genere tanto l'innovazione e la collaborazione nel settore tecnologico. Perché? Perché gli sviluppatori indipendenti possono partire dal software open source e adattarlo, migliorarlo, eccetera, o crearne integrazioni, plug-in, eccetera, senza doversi preoccupare in alcun modo di cosa ne pensa di questa cosa o dei paletti imposti dallo sviluppatore. Qui lo sviluppatore è uno sviluppatore che genera codice open source, punto e basta. Un po' più difficile probabilmente dal punto di vista delle imprese, perché almeno inizialmente può sembrare una minaccia, perché richiede di lasciare codici che potrebbero essere proprietari, che fino adesso le aziende hanno visto come proprietarie e rivendevano. Ok, facendo di buon viso a cattivo gioco si potrebbe dire che si aprono anche opportunità di mercato, perché? Perché le aziende possono offrire servizi di supporto e personalizzazione su tutti i software open source existenti, non solo sui loro. Lo so che ve lo chiedete, vi rispondo. E in Italia, in Italia già una normativa prevede di favorire l'acquisizione di software open source da parte della pubblica amministrazione. Ne avete visti tantissimi, vero? E il riuso non è ancora così spinto, perché non c'è l'interesse nello spingere davvero nelle motivazioni il software open source. Finché non ci sarà un obbligo stringente, come è in Svizzera, non credo che vedremo grandi cambiamenti. La Svizzera quindi come modello da seguire, che spinge tutti i paesi europei, compresa l'Italia, a rivedere un po' le proprie politiche in materia di software pubblico e in meglio. Che dire, una svolta che è un passo, dal mio punto di vista, più o meno obbligato per ottenere quella trasparenza dei processi, eccetera, che secondo me è necessaria soprattutto per software che coinvolge la vita e i soldi dei cittadini. Sono curioso di vedere come andrà, come verrà adottata, quali saranno... Ci guardo, ci butto un occhio ogni tanto ed eventualmente torno da voi per aggiornarvi. Per il resto, raccontatemi qui sotto cosa ne pensate. Se non vi siete iscritti prima, questo è ancora un momento buono per iscriversi. In fondo trovate nella sigla finale il gruppo WhatsApp e Telegram. Telegram e per il resto, grazie mille per avermi ascoltato. Buona estate e le state parate.